A Piazza Affari è durato poco il rialzo del titolo Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver iniziato la giornata in forte aumento, l'azione dell'Istituto Senese ha zerato i guadagni e ha avvirato in territorio negativo, anche se la Consob ha esteso il divieto di vendita allo scoperto fino al 5 ottobre, quindi per tre mesi, una mossa che ha pochi precedenti. Inoltre i mercati danno al 66% le possibilità che la banca più antica del mondo faccia crack. Lo dicono gli ultimi prezzi dei contratti di assicurazione contro la possibilità di un default di Monte dei Paschi di Siena. Intanto, chiamata a rispondere alla lettera della BCE che ha chiesto di smaltire quasi 10 miliardi di sofferenze nette in tre anni, il Consiglio di Amministrazione straordinario del Monte Paschi, a meno di colpi di scena, lancerà un aumento di capitale di 3 miliardi di euro per contribuire ad abbattere le norme mole di crediti deteriorati nella speranza che il governo si faccia carico del problema. Le regole europee dicono però che se vuoi salvare una banca con soldi pubblici devi sacrificare gli obbligazionisti subordinati. Renzi non ne vuol sentir parlare e la ragione è comprensibile. I detentori di quei titoli sono 60.000, sei volte quelli coinvolti dal crack di Etruria e Cassa Marche. E questo è il nodo più grosso da sciogliere nella trattativa fra Roma e Bruxelles per risolvere, una volta e per tutte, i problemi della banca senese. Le riunioni a Roma e a Bruxelles sono continue. A Palazzo Chigi il Premier si è incontrato con il Ministro Paduan e poi con i vertici della Cassa Depositi e Prestiti. Il percorso per portare la banca in sicurezza è delineato ma gli ostacoli sulla strada sono ancora molti.